Sei un autotrasportatore? Il tuo camion è la tua passione? Il mio lavoro, la mia passione è aiutarti a trovare soluzioni per personalizzare il tuo camion. Ciao, sono Umberto del TrackPoint, negozio di accessori estetici per camion e centro assistenza per CV. Il mio camion è la vita, la vita è qua, mai solo con il mio CV. Ciao, sono Damiano di Verona, ho una ditta di trasporti, seguo una ditta di trasporti da un po' di anni, il decoro i miei camion con TrackPoint. TrackPoint lo conosco da più di dieci anni, mi trovo molto bene con lui, una persona cordiale, una persona che ti viene dietro, ti soddisfa su tutte le esigenze che puoi avere sul tuo camion. Ti dà soddisfazione perché comunque ti fa il lavoro come lo preferisci, sia all'interno che all'esterno della cabina. Una sosta al TrackPoint e poi si va, casa amici in libertà, sul mio camion la vita è qua, mai solo con il mio CV. Lo consiglierei appunto perché gestito da Umberto, se hai un problema parli con lui, ti dà appunto mille soluzioni e ti trova la soluzione che è più adeguata a te, diciamo, e ti soddisfa nel lavoro che vuoi, insomma, finale. Una sosta al TrackPoint e poi si va, casa amici in libertà, sul mio camion la vita è qua, mai solo con il mio CV. Libertà, on my track, passo al TrackPoint poi si va.